Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolcemo, e sessus salve, Ave Maria, 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 Pace e bene, buonasera a tutti, in modo particolare ai telespettatori che ci stanno seguendo dalle loro case, in modo particolare agli anziani e alle persone in difficoltà, ma a tutti coloro che sono assetati della parola di Dio. Vi trovate, ci troviamo nel santuario di Santa Maria dei Lumi, in Civitella del Tronto. Questo luogo, innanzitutto qualche parola su questo luogo, sulla storia di questo santuario, che inizia lontano, inizia già nel Medioevo, nel tardo Medioevo, oltre il 1100 sicuramente, dove qui abitavano i Benedettini, un ordine religioso, dedito in modo particolare alla contemplazione, alla preghiera e anche alla coltivazione, al risanamento del territorio. Così questo luogo è nato come una grancia benedettina proveniente dalla vicina abbazia di Montesanto. Ma, come tutte le cose, hanno una loro storia, un inizio, un loro principio, anche un loro declino per certi versi. E così, nel momento in cui l'ordine benedettino trova una flessione, una flessione numerica, come era in uso all'epoca, il convento, l'abbazia, la piccola abbazia, che non era ancora di Santa Maria dei Lumi, ma che comunque era sempre un luogo di devozione mariana, viene ceduta ai francescani. E' l'esordio di San Francesco, siamo all'inizio probabilmente del 1300, quando qui arrivano i primi frati francescani. Una nota sui frati francescani, noi sappiamo, voi sapete, sappiamo un po' tutti, che l'ordine francescano è un ordine oggi composito, costituito da tante famiglie, ma all'inizio non era così, all'inizio esisteva una sola realtà, quella detta dei frati della comunità, la prima comunità francescana, che si è poi ingrandita enormemente nel solo primo ventennio francescano. Dunque qui arrivavano i primi gruppi dei frati della comunità, si sono installati qui, ma dopo poco, quando l'ordine assumeva una sfaccettatura diversa, anche dal punto di vista organizzativo, più compatta, e i frati si trasferirono qui nelle mura della città, nella civitella del Tronto, nella chiesa di San Francesco, tuttora agibile e visitabile, aperta al culto della parrocchia. Questo avviene nel 1326. Dopo il 1326, qui nel 1471, arriva l'altra famiglia dei frati francescani, dopo la divisione, i frati minori della regolare osservanza, i quali rimangono qui per un po' di tempo, fino alle leggi di soppressione, dopodiché arriveranno i frati conventuali, di cui io sono membro. Siamo nel 1882. Ecco, da allora, fino ad oggi, questa chiesa è tenuta dai frati minori conventuali. Ma c'è una nota da aggiungere, molto importante, che la fioritura di questo santuario, di questo convento, è dovuta in modo particolare a un personaggio quattrocentesco, quale San Giacomo della Marca. Qui siamo al confine tra Abruzzo e Marche. Monte Prandone, il luogo di nascita di San Giacomo, è a poche decine di chilometri da qui. San Giacomo della Marca, fondatore e confondatore della riforma francescana, è colui che dà un impulso particolare a questo santuario. Ed è probabilmente lui che commissiona la figura più importante che connoterà fondamentalmente questo santuario, a questo luogo, che è la figura della Madonna, in modo particolare di quella che oggi noi chiamiamo Santa Maria dei Lumi, di cui potete ammirare l'immagine e l'Igna. E lui allora probabilmente ha commissionarie questa Madonna che voi vedete, probabilmente di scuola, anzi sicuramente di scuola fiorentina, di scuola toscana, l'autore è Biassuccio di Fontavignone. È una Madonna particolare per quanto riguarda la spiritualità, oltre il suo valore, diciamo, artistico, è una statua a linea che si conserva ancora molto bene. È dal punto di vista artistico e spirituale una Madonna che rappresenta una donna popolana, una donna di queste terre, una contadina, che ha in braccio un suo bambino che, guardate, se vi osservate bene, è molto gaio, molto sorridente, molto contento. Quindi è una figura molto, molto, molto realistica. Ecco, questa realtà ha subito delle trasformazioni. Perché? Perché all'inizio probabilmente l'intenzione di San Giacomo della Marca è quella di offrire ai fedeli un'immagine della Madonna delle Grazie, come ce ne sono diverse qui nella zona, sia a Teramo, sia qui vicino, in alcuni paesi, qui vicino c'è una statua quasi identica a quella di Santa Maria dei Lumi. E che rispecchia la tipica spiritualità francescana dell'epoca, quale? Quella che intende focalizzare, mettere al centro della devozione, dell'amore e della fede, la figura reale di Gesù Cristo, l'umanità di Gesù, il suo essere, un uomo come noi. Allora voi vedete che, osservando la statua della Madonna dei Lumi, noi abbiamo plasticamente questa immagine di realismo, perché il bambino e la mamma sono tanto simili, si vede proprio che sono fatti della stessa carne, che hanno la stessa carne, che sono uno nell'altro, uno con l'altro. Questo è molto importante per noi. San Francesco lo aveva capito molto bene. San Francesco rimaneva stupito della umiltà di Dio, di Dio che ha voluto veramente essere uomo. Questo lo diceva al mondo, diceva al suo tempo, un mondo che faceva fatica a capire che la realtà del mondo, la realtà dell'umanità, della carne, non era qualcosa di lontano da Dio. ma la realtà del mondo e dell'umano invece è assunta veramente dal Signore. Questo lo sappiamo bene perché, perché al tempo di Francesco esistevano anche delle eresie, quella patarina della Francia in pataria, dei catari, i quali tendevano a una spiritualità che separava lo spirituale dal carnale. in un certo disprezzo della realtà dell'umano, della realtà del mondo. Allora Francesco ci tiene invece a ribadire che ciò che fa parte dell'uomo, tutto ciò che fa parte dell'uomo, eccetto il peccato, appartiene anche a Dio. E lui è ammirato e sorpreso dal fatto che Dio stesso allora ama questo umano, lo sposa, lo assume totalmente. ecco perché chiama a Dio, dà a Dio un titolo, se volete un attributo, che è quello della umiltà. Lui dirà Dio è umiltà, che è una grandissima affermazione, un'affermazione molto coraggiosa. Significa che Dio allora assume veramente tutto quello che fa parte della nostra esperienza, la gioia, il dolore, la malattia. Dio assume perfino la morte, anche lui muore. Questo allora è il messaggio, potrebbe essere il messaggio tra i tanti di questo santuario. Un messaggio profondamente francescano, che è plasticamente raffigurato allora in questa Madonna. Dio entra veramente nella storia dell'uomo. Non è lontano da noi, ma cammina con noi, è uno di noi, è uno con noi. Questo messaggio è fondamentale, è rassicurante per l'uomo ad oggi, ma per l'uomo di tutti i tempi. Francesco lo ha detto in tante maniere e lo ha ribedito in un momento particolare della spiritualità e della vita cristiana, che è quello dell'Eucaristia. Francesco nel momento in cui ammirava l'Eucaristia, diceva, o sublimità dell'umiltà di Dio, perché nell'ostia consacrata lui ammirava, contemplava la discesa del verbo, il verbo che si è fatto caro. Dunque, vedete, è un pensiero ricorrente che in qualche modo assillava la mente di Francesco, che ha plasmato la sua vita, ha determinato la sua vita. Perché quale sarà la sua vita? Beh, la sua vita sarà quella di un uomo impegnato nell'umano, un uomo che certamente ha vissuto pregando, ha vissuto una vita ascetica di digiuno, anche di eremo, ma prima di tutte queste cose Francesco ha incontrato l'uomo, ha sposato l'umanità. Sappiamo tutti il racconto fondamentale del testamento, la conversione di Francesco, che non avviene solo in preghiera, ma avviene in un momento particolare, cioè quando lui incontra il lebroso. Incontra il lebroso che era per lui qualcosa di obrobbioso, di assolutamente inaccettabile, qualcosa che gli ripugnava, ma in un momento particolare della sua vita, sceglie invece di scendere da cavallo e abbracciare il lebroso, e dirà lui nel suo testamento, dopo aver fatto questo, tutto quello che mi sembrava amaro, mi diventò dolce, era cambiata la sua vita, perché? Perché aveva assunto i criteri di Dio, i criteri di Cristo, Cristo era diventato uno con lui, e con Cristo lui allora abbraccia l'umanità sofferente, l'umanità toccata dalla sofferenza, dell'esclusione, dall'emarginazione, diventa uno di loro e uno con loro, ed esprime allora la realtà di Dio in modo plastico. Francesco allora testimonia, con la sua vita, quello che è il messaggio rappresentato da questa statua, che è il messaggio allora di un Dio profondamente uomo, uomo e Dio, ma veramente, veramente calato nella nostra realtà. Tutto questo che la spiritualità francescana ha coltivato in modo particolare, ecco perché, anche se ci troviamo in tempo di Pasqua, ma ecco perché la devozione natalizia, il tempo dell'Avvento, il tempo del Natale, il dogma dell'Incarnazione, sono delle realtà così curate da Francesco, sappiamo che Francesco è l'uomo del presepe, è l'uomo che ha bisogno di vedere, di toccare veramente, tutto quello che stiamo dicendo, è un uomo che ha avuto cura di rappresentarlo, e voi sapete che la rappresentazione teatrale, propria di Francesco, il giullare di Dio, è servita, antelitteram, in una forma comunicativa, nuova, è servita proprio a riaffermare questa passione per l'uomo, una passione che non è di Francesco, ma è la passione di Dio per l'uomo, perché Dio è appassionato della nostra vita, è appassionato di noi, Dio sposa l'umanità, assume l'umanità, davvero, questo noi crediamo. E questo stavo, voglio sottolineare anche un'altra cosa, che non è qualcosa di avulso dalla tradizione biblica, il sentire di Francesco è un sentire anche profondamente biblico, che può essere agganciato a diverse realtà, a diverse immagini, a diverse figure, a diverse parole, Noi possiamo tentarne una, partendo proprio dal prologo di Giovanni, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa parola, è una parola che ci porta a riflettere profondamente sul senso, sul senso della realtà, sulla realtà di Dio, sul senso dell'essere parola, che Dio è parola, ma Dio è parola che si fa fatto, che diventa fatto, ecco perché anche in ebraico il termine davar, che conosciamo, significa queste due cose, significa sia parola, ma significa allo stesso tempo anche fatto. Dio allora quando parla, fa, sono concomitanti queste realtà. E con la parola, e con i fatti, voglio scusatemi, con i fatti, arriva anche la parola che ne dà la spiegazione. parola e fatto, sono inclusi, attaccati l'uno all'altro. Questa è, se volete, la realtà, ancora una ulteriore interpretazione di questa spiritualità che noi in qualche modo coltiviamo. è la spiritualità legata alla parola di Dio. Maria è la donna che ascolta dalla parola di Dio e la fa carne, la rende carne, la fa diventare carne. Dunque, l'immagine di noi e l'immagine della Chiesa è chiamata allora ad ascoltare la parola, ma non per trasformarla in una devozione sterile, ma per testimoniarla con la vita, farla diventare testimonianza di vita. E ancora una volta, vedete, è l'immagine, viene fuori l'immagine di Francesco, l'immagine di colui che anche egli prende la parola di Dio, ma non la relega a uno spiritualismo asettico, non la vive solo nel suo cuore, una forma di spiritualismo, ma la trasforma in una vita, in vita vera. E allora, delle considerazioni adesso sulla nostra vita pratica, su quello che questo serve alla nostra vita. Perché siamo venuti qui? Perché siamo qui? Siamo qui perché siamo chiamati allora a testimoniare con la vita la parola di Dio. Una parola di Dio che diventa fatto, diventa carne, diventa umanità. E quale umanità però? Beh, in modo particolare l'umanità sofferente, l'umanità toccata dall'emarginazione, toccata, se volete, anche dalla crisi di questi tempi. Sicché entrare nella contemplazione di questa immagine della Madonna dei Lumi, di Dio che si fa carne veramente perché prende la carne della Madonna, cioè la carne di tutti noi, la carne dell'uomo, sposare l'umanità come l'ha sposata Dio, l'ha sposata San Francesco, significa allora che cosa? Mettersi dalla parte dei poveri, fare una scelta di campo, scegliere di sostenere allora un'umanità che non è semplicemente tutta l'umanità, ma specialmente una parte di essi, coloro che sono immarginati, diseredati, malati, tutti costoro che non hanno un posto in questo mondo, sapendo che Dio è dalla parte loro e questo significa tante cose, significa lottare contro ogni forma di potere ingiusto, assumersi le proprie responsabilità, non accettare i compromessi, e questo è molto importante, sapere entrare in uno stile di vita che sappia essere rispettoso di tutte queste persone, significa, vedete fratelli, assumere anche un altro stile economico, perché no? Ripensare la nostra economia, ripensare il nostro essere primo mondo, entrare allora in una capacità di solidarietà che non significa solo fare le lemosine a qualcuno, ma significa condividere la propria vita con l'altro, come Dio ha condiviso la sua vita con noi, lui che pur essendo Dio ci dice San Paolo non disdegnò di, non disdegnò di fassione, cioè non disdegnò di abbassarsi, di ritenere il suo tesoro, la sua divinità come un tesoro geloso, ma non l'ha conservata per sé, ma si è abbassato proprio per stare in cammino con l'uomo, allora se Dio ha fatto questo e la tradizione cristiana e francescana ha capito molto bene l'umiltà di Dio, questo abbassamento che è così emblematico, anche noi non possiamo fare diversamente, anche noi chiamiamo San Francesco, se chiamiamo San Francesco, non possiamo non metterci allora dalla parte di queste persone e dunque assumere uno stile di vita corrispondente, questo fratelli e sorelle carissimi, è il messaggio sempre nuovo vedete che arriva a noi oggi, è un messaggio se vogliamo in questi tempi particolari dell'Italia, un messaggio profondamente attuale, sapendo che le fasce di povertà oggi si allargano, che gli marginati sono sempre di più, siamo chiamati allora a costruire un mondo capace di solidarietà, chiediamo allora alla Madonna Maria De Lumi la luce per poter entrare in questa prospettiva senza timore di prendere l'ultimo posto e di incamminarci sulla via della storia in forma più positiva, in questo senso voglio solo aggiungere una conclusione che è una nota storica, questa Madonna diventata poi parte della devozione popolare perché scusatemi nel 1893 in questo luogo capitò un miracolo che le persone voi sapete impegnate nell'agricoltura avevano bisogno della pioggia e allora implorando la Madonna dei Lumi arrivò la pioggia ecco perché questa è la Madonna detta anche della Madonna della pioggia che a suo tempo però aveva fatto anche altri miracoli questo luogo illuminò anche dei pellegrini che si erano smarriti e cercarono una via e allora apparvano delle stelle qualcuno dice degli angeli festanti delle luci che illuminarono il cammino dei pellegrini che non trovavano la strada da qui Santa Maria dei Lumi quindi il progresso dalla creazione della Madonna delle Grazie forse probabilmente fatta da San Giacomo al titolo di Maria dei Lumi e poi al titolo di Maria madre della pioggia in qualche modo ma questi titoli ripeto e concludo sono tutte indicazioni che ci fanno riandare con più intensità allora al messaggio più profondo che viene appunto dalla statua dalla parola che abbiamo ascoltato che è un messaggio allora di coloro che sono incamminati sulla via della luce la via della luce qual è? la via della luce è quella dell'amore dell'amore in modo particolare verso tutti coloro che sono abbandonati esclusi di seredate della terra quella è la nostra missione il nostro compito è la nostra testimonianza sia lodato Gesù Cristo e arrivederci a tutti grazie 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 a tutti